ciao a tutti amici del verde oggi parliamo dell'olio bianco state vedendo qua un etichetta in anteprima non fate caso alla marca ci ne sono tantissime parliamo un po' di quest'olio bianco che cos'è? praticamente è petrolio distillato raffinato in un certo modo quindi è un olio minerale che però può essere utilizzato in agricoltura convenzionale e biologica e come insetticida praticamente è reso idrosolubile e miscelato in acqua per poi nebulizzarlo sulle nostre piante crea un velo sottilissimo che va a soffocare determinati insetti è ammesso anche in agricoltura biologica perché non essendo molto persistente sulla pianta non ha un gran residuo e quindi è ammesso nel box informazione nel primo post che piste in alto vi metto tutti quanti i link per andarvi a vedere i prodotti che utilizzate in modo che vi fate una ricerca approfondita di olio abbiamo diciamo tre categorie principali l'olio bianco tradizionale l'olio estivo e il narrow range e quali sono le differenze allora il primo l'olio bianco quello normale che noi utilizziamo è un olio che ha una raffinazione un po più bassa come temperature quindi è un olio con una struttura molecolare un po più lunga e un po più pesante e più adatto verso l'inverno perché lui persiste di più sulla pianta mentre quando siamo diciamo in estate vogliamo trattare il nostro agrume quest'olio visto che rimane un po più aderente sulla pianta e potrebbe mandarla un po in fitotossicità quindi in tutti quei casi in cui noi stiamo andando verso il periodo caldo verso il periodo appunto estivo si preferisce o l'olio estivo l'olio questo a narrow range perché sono stati distillati ad una temperatura più alta sono quindi con una struttura molecolare un po più corta e riescono a evaporare prima a togliersi prima dalla pianta e quindi non mandano in fitotossicità la pianta ecco che noi è a secondo il periodo di utilizzo di questo insetticida dobbiamo un po scegliere la tipologia dell'olio e anche il suo quantitativo poi andremo chiaramente a leggere nelle indicazioni che la bottiglia o il flacone ci dirà come utilizzarlo per filo e per segno quest'olio appunto come abbiamo detto che è stato reso idrosolubile quindi lo mettiamo nell'acqua e poi ce lo possiamo nebulizzare sulle nostre piante e ha un'azione insetticida su tutti gli stadi dell'insetto quindi le uova le larve ma anche l'adulto è chiaro che quest'olio riesce ad eliminare gli insetti soprattutto quelli che hanno una scarsa mobilità quindi la prima è la cocciniglia mezzo grano di pepe o a scudetto così chiamata perché lei sta lì ferma sotto la foglia e se viene nebulizzata l'olio la avvolge e chiaramente la soffocherà ma anche tutti quante quelle quegli insetti diciamo che hanno scarsa mobilità la cocciniglia cotonosa perché si muove si muove poco ma anche gli acari e le loro uova e l'epidopteri e le loro uova quindi ci sono alcuni insetti che vengono facilmente eliminati altri che hanno una mobilità un po più energica riuscirà un po più difficile l'eliminazione ad esempio pensiamo agli afidi ma anche alle psille e sono sono degli insetti che riescono ad essere un commobili la stessa mosca bianca anche se l'olio è indicato per andarla a eliminare però lei svolazza e facilmente se ne va e anche le minatrici non è facile eliminarle perché anche se quest'olio sulla pagina della nostra della nostra foglia no le strappo adesso una sulla pagina della nostra foglia e quest'olio fa una patina che cerca di soffocare la minatrice ma se la minatrice sta all'interno con la sua galleria e questa galleria abbastanza lunga per cui contiene dell'aria non è facile andare a eliminare la minatrice magari eliminerà quelle appena nate che hanno una galleria stretta e non riescono più a respirare o quelle che stanno sfarfallando perché vengono investite dal getto ma quelle adulte che stanno all'interno difficile le elimina però possiamo aggiungere a quest'olio bianco un insetticida per aiutarci nell'eliminazione della minatrice poi vediamo come per chi è in agricoltura biologica che usa le arnie quindi le api per andare a fare l'impollinazione dei propri frutti e un consiglio e si lanciano di nuovo gli insetti impollinatori o gli insetti utili come le coccinelle solamente 48 ore dopo aver dato i trattamenti in modo che l'olio oramai è secco asciutto sulla pianta e gli insetti non vengono danneggiati. L'olio bianco lo possiamo vedere magari un attimino qua in anteprima è indicato e registrato per essere utilizzato su molte culture e sulle parte delle piante da frutto, sugli agrumi, sulle pomace, le drupace, noce, nocciolo, la vite, l'olivo e può essere anche chiaramente utilizzato nella parte dell'erbace quindi negli ortaggi e sedano, patate, peperone, finocchi e così via. Andiamo sempre a leggere chiaramente le indicazioni del nostro flacone della nostra confezione. È un prodotto che può essere utilizzato sia da solo che insieme ad altri insetticidi e vedremo quali, ma una cosa molto molto importante, teniamolo sempre ben a mente, non dobbiamo mai trattare o piante fiorite o gli ortaggi che hanno i fiori, perché quest'olio fa chiaramente questa soluzione appiccicosa, fa questo piccolo film leggero, sottilissimo che può andare ad imbrattare il polline e quindi il fiore abortire, non allegherà, avremo un vuoto di produzione, quindi massima attenzione sulle fioriture. Ottima ragazzi è la soluzione con il trattamento con quest'olio del bianco a fine inverno, prima dell'ultimo trattamento della poltiglia bordolese. Possiamo fare questo trattamento sui nostri alberi da frutto e controllando però che le temperature minime di notte siano superiori a 6-8 gradi in modo che questo film sottilissimo non congeli e finalmente avremo eliminato tutti quanti quelle deposizioni di uova che ci sono sulle nostre piante, gli aceri, gli insetti che cercano di svernare all'interno delle cortecce e abbiamo liberato la nostra pianta da questa eventuale infestazione. Come abbiamo detto si può utilizzare anche agli insetticidi e la maggior parte degli insetticidi però si usa in un modo particolare. Facciamo finta che devo trattare questa grume contro le minatrici, quindi mi vado a vedere la dose dell'olio bianco che devo dare come percentuale sul mio agrume, diciamo che il 2%, so che l'olio di nimme magari devo darne, leggendo le istruzioni, l'1%, quindi 10 ml di olio di nimme ogni litro d'acqua e l'olio di nimme lo lascio così, quindi la soluzione è semplice, l'olio bianco di mezzo le dosi indicate, l'insetticida lascio la dose indicata. Facciamo un altro esempio, ho le fave piene di afidi e andrò a utilizzare il piretro verde in azione con l'olio bianco, che faccio? vado a vedere le dosi indicate nell'olio bianco, c'è scritto 400 ml in 100 litri di acqua quindi so che normalmente ci andranno 4 ml in un litro, di mezzo la dose dell'olio bianco perché lo sto mettendo insieme al piretro verde quindi metterò solo 2 ml ogni litro di acqua e del piretro verde invece lascio le indicazioni che ci sono scritte sulla confezione che sono di 1,4 ml ogni litro d'acqua. Questo è il concetto per utilizzare l'olio bianco insieme agli insetticidi che sono compatibili. Un matrimonio che piace molto a me è questo qua, l'olio bianco con i bacillus, il bacillus rimane un po' poco persistente sulla pianta, invece l'olio bianco gli fa da adesivate, quindi ad esempio sui bruchi della cavolaglia che ci stanno mangiando tutti quanti le nostre brassicae, cavole, broccoli e così via, l'olio bianco fa rimanere più tempo il bacillus aderente alla foglia, quindi il bruco sicuramente se lo andrà a mangiare e verrà eliminato. Purtroppo vi rimetto qui in alto il link del bacillus e la cavolaia e come si elimina in maniera del tutto biologica. Ma veniamo alle regole generali di come si usa questo prodotto. Allora nella fioritura non si deve utilizzare quindi sugli ostri alberi da frutto, sugli ortaggi evitiamo il periodo della fioritura, semplicissimo. Poi un altro fattore molto molto importante, la temperatura minima notturna deve essere sempre sopra 6, 7, meglio anche 8 gradi, perché questo strato sottilissimo di olio tende a ghiacciare, l'olio ghiaccia facilmente, è chiaro no? Ma anche le temperature massime non dobbiamo stare sempre attenti, devono essere sempre sotto a quei 32, meglio anche 30 gradi, perché è un olio e facilmente dato su una superficie il sole se lo colpisce tende a friggere la foglia, quindi temperature minime sopra agli 8 gradi, massime sotto ai 32. Detto questo ci sono poi le le dosi che bisognerà andare a leggere all'interno della confezione, ma più o meno vanno dall'1 al 2 per cento durante il periodo estivo e anche dal 2,5-3 per cento nel periodo invernale, questo per quanto riguarda gli alberi da frutto. Per quanto riguarda invece gli ortaggi la dose è sempre molto molto bassa, va dai 200 ai 400 ml ogni 100 litri di acqua. Osserviamo sempre le indicazioni che ci vengono consegnate nel flacone o nel cartone, insomma ci devono essere scritte lì, trattiamo con quei riferimenti. E vediamo anche come proprio si miscela. Allora facciamo una simulazione, facciamo finta che noi dobbiamo andare a trattare, eccolo qua, l'olivo nei trattamenti fino inverno, febbraio-marzo, ok? E quindi che mi dice la dose? Mi dice 1,52 litri etolitro, vuol dire un litro e mezzo o due litri ogni 100 litri. Facciamo finta che io invece devo fare un solo litro di acqua, a questo punto so che ci andranno dai 15 ai 20 millilitri ogni litro. Mi metto, ho anticipato le riprese, i miei 20 ml di olio bianco, eccolo qua, trasparente, si chiama olio bianco, profuma chiaramente di olio minerale, a questo punto di questo litro di acqua della mia soluzione ne prendo un decimo, quindi faccio una soluzione concentrata, mi prendo 100 ml di acqua e qua ci saranno rimasti 900. Prendo il mio olio bianco, ce lo metto tutto quanto dentro, vedete come è idrosolubile, diventa subito un latte, lo giro ben bene e una volta fatto questa mia soluzione concentrata, solo ora andrò ad aggiungere al resto dell'acqua o all'interno della mia botte. Eccola qua come si presenta un'acqua bianchiccia e nelle nostre botti, quelle grandi, teniamo attaccato l'agitatore che ci manterrà omogenea questa soluzione, siamo pronti per andare a trattare. Una volta fatta questa miscela, prendiamo con il nostro nebulizzatore, con la nostra pompa spalla, con la nostra botte, trattiamo ben bene la pianta, anche sotto negli intertizi dei rami, perché lì si annidano le uova, gli acari, insomma la dobbiamo nebulizzare bene finché inizia la fase di gocciolamento, quindi se siamo così bravi che poi ci abbiamo preso la mano e stacchiamo un attimino la nebulizzazione, prima che la pianta riesce e inizia scusatemi a gocciolare, abbiamo fatto proprio un bel trattamento. L'olio bianco non è compatibile con alcuni prodotti antifungini, quindi lo zolfo non è compatibile, i polisulfuri di calcio non sono compatibili con l'olio bianco, non possiamo darci insieme la calcio uguale, i rami uguali, quindi idrossido di rame, ossicloruro, poltiglia bordolese, non possono essere miscelati all'olio bianco, quindi se dobbiamo fare un trattamento e poi l'altro, dobbiamo scegliere fare uno o fare l'altro, non possono essere messi insieme questi prodotti. Detto questo, se noi facciamo un trattamento con l'olio bianco, il trattamento con il rame, con lo zolfo, quello che sia, deve essere posticipato di almeno 20 giorni e se noi abbiamo fatto un trattamento prima con lo zolfo oppure con la tiglia bordolese, prima di dare l'olio bianco devono passare 15 giorni, quindi stiamo attenti al trattamento che abbiamo fatto in precedenza e al trattamento che faremo in futuro quando noi dobbiamo trattare con l'olio bianco. Poi l'olio bianco e ci siamo qua, non è compatibile con alcuni insetticidi, non è compatibile con questa brutta bestia qua, con il demetoato, io mi tengo sempre questo flacone oramai quasi vuoto per far sentire quanto puzza il demetoato, c'è chi lo usa ancora sull'agricoltura convenzionale, io cerco sempre di convincere a fare invece una lotta diversa, non è compatibile quindi con il demetoato, quindi chi fa agricoltura convenzionale che usa ancora il demetoato e vuole usare l'olio bianco sappi che non sono compatibili. L'intervallo dei trattamenti sono 15 giorni, facciamo un esempio, ho trattato questo albero con l'olio bianco contro la cocciniglia cotonosa, mi accorgo che ancora c'è, il prossimo trattamento lo posso fare solo 15 giorni dopo aver dato il primo trattamento. La raccolta dei frutti idem devono passare un tempo ben determinato, devono passare 20 giorni, quindi tratto quest'albero ma l'arancio non posso raccoglierlo prima di 20 giorni, mi raccomando. Chiudo qui questo video ragazzi, mettetemi un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se l'avete fatta controllate se la campanellina è attivata, se non è attivata cliccatele in modo che quando io carico un video vi arriva la notifica, vi saluto, vi abbraccio gli ultimi 6 secondi sempre dedicati ad altri link di video interessanti. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!